Ciao a tutti, sono FitGreta e oggi insieme faremo un allenamento focalizzato sull'interno e sull'esterno coscia, tutto con l'utilizzo di due cavigliere zavorrate. Il mio consiglio è quello di utilizzare cavigliere che vanno da mezzo chilo fino a due chili. Quindi prepariamoci e iniziamo! Ci prepariamo sul tappetino e iniziamo con un po' di mobilità articolare partendo dal collo. Braccia lungo i fianchi e gambe separate, iniziamo con delle semplici circonduzioni del capo, mantenendo le spalle ferme e sentendo ben ruotare la testa con movimenti fluidi e circolari. Ancora una ripetizione e cambiamo senso del cerchio. Uno, e due, e tre, e l'ultimo quattro, e testa in centro, andiamo con le spalle, cerchi grandi, vai, e uno. E due, e tre, e quattro, e cambia senso, quattro, tre, due, uno, e morbide le braccia, mani sui fianchi, e andiamo a sciogliere invece il pacchino, definendo sempre dei cerchi, mantenendo le gambe abbastanza allungate, e ruotando bene da un lato, avanti, lato, e indietro. Ancora due cerchi in questo senso, e cambiamo senso, vai, e grande. Uno, e due, tre, e quattro, l'ultimo, e cinque, al centro. Ci mettiamo da un lato del tappetino, schiena dritta, gambe morbide. Braccia lungo i fianchi, scendiamo il roll down, quindi scende il mento. Una vertebra dopo l'altra, lasciare le braccia morbide, sciogliere tutti i muscoli della schiena, quando le gambe iniziano a tirare potete piegarle, e inspirando saliamo e raddrizziamo ancora la schiena. E ancora, S, si scende con il mento, poi con le spalle, poi con le vertebre, una dopo l'altra, si piegano le gambe, e inspirando raddrizziamo. E facciamo l'ultimo, si scende, muovete distrime con tutti i muscoli, con le articolazioni, mani a terra, gambe piegate. E adesso, mantenendo le mani a terra, cerchiamo di allungare le gambe e piegarle. Manteniamo le mani a terra, e cerchiamo di stendere le gambe. E ancora, vai, tre. E due. Collo ben rilassato. E uno. E rimaniamo con le gambe piegate, e lentamente inspirando il fruttoglio della schiena, e ci raddrizziamo. Ritorniamo al centro con le gambe ben separate, le mani al petto, e scaldiamo le gambe in squat classico. Quindi pieghiamo le gambe, le ginocchia vanno nella direzione dei piedi, e ritorniamo su. E andiamo. Uno. E stringere. E due. E tre. Ricordiamoci di stringere i quadricipiti e i glutei ogni volta che si torna. E quattro. Ancora cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Continuiamo in squat. Questa volta si scende in squat. Si solleva un tallone, un molleggio, e si risale. Quindi si scende, si solleva un tallone, un molleggio, e si risale. Cambiamo, vai. E tre. E su. E quattro, tallone, e su. E cinque. E spingere in alto. Vai. E sei. Tallone. E sette. Ancora otto. E nove. E l'ultimo dieci. E ritorniamo con il primo tallone sollevato in squat e molleggiamo. E ben profondo il bacino. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Gambete. Cambiamo. Sala il tallone e scendiamo in squat. Pulsazioni. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Gambetevi. Sciogliere bene le gambe. Respiriamo al centro e riportiamo le mani al tetto. E adesso allunghiamo una gamba dietro incrociata per affondo incrociato alternato. Un passo dietro, bello e lungo, pieghiamo le gambe e facciamo il cambio. Andiamo. Uno. E due. Tre. Ben profondo il ginocchio dietro. Quattro. Sfiora il pavimento. Cinque. E sei. E sette. E otto. Ancora nove. E dieci. Ritorniamo al centro. Adesso andiamo ad affondo laterale. Quindi una sola gamba si piega. La gamba piegata va dietro e vai in affondo incrociato. Affondo laterale. Vai. Uno. E incrocio dietro. E due. E lungo il passo. Tre. La gamba centrale è ben ferma, non si muove. Quattro. Si flette in affondo e si stende in laterale. E cinque. Sei. Ancora sette. E otto. Gli ultimi. Nove. E dieci. Affondo. E chiudo al centro. Cambiamo lato. Affondo laterale. E incrociato dietro. Uno. E due. E tre. E lungo il passo in laterale. Quattro. E cinque. Vai. Sei. Forti le gambe. Per gli ultimi. Sette. Otto. Ancora nove. E dieci. Affondo. E chiudo le gambe. Sciogliere bene le gambe. E ci mettiamo da un lato del tappetino. Inspiriamo in quattro. Ed espirando scendiamo in roll down. Sciogliere bene tutti i muscoli del corpo. Flettere le gambe. E inspirando si ritorna. In posizione iniziale. Ed espirando si scende. E inspirando gambe flette. E si ritorna in posizione iniziale. Facciamo l'ultimo. E rimaniamo giù. S. Appoggiamo le mani a terra. Adesso appoggiamo. Anzi andiamo avanti con le mani. Camminiamo. Appoggiamo le ginocchia. Ci sediamo sui talloni. E prendiamo le cavigliere. Posizionate le cavigliere sulle caviglie. Le cavigliere potete utilizzarle. Già mezzo chilo. Da uno. Uno e mezzo. Fino a due. Non consiglio mai di esagerare sopra i due chili. Perché comunque lavorano anche le nostre ginocchia. Quindi non andiamo a sollecitarle in maniera importante. Benissimo. Cavigliere mezzo. Ci mettiamo sbrogati sul fianco. Partiamo con la gamba sopra tesa. Quindi esterna poscia. La gamba è tesa. Sale e scende. In slanci. Andiamo. Vai. E su. Uno. E due. Bella tesa la gamba. Il ginocchio punta in avanti. Quattro. E cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E rimane alta la gamba. Forte. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ripetiamo gli slanci. Sempre con il ginocchio ben girato in avanti. E due. E tre. Quattro. Ben allungata la gamba. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Rimane molleggia. Sempre pieni su. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Non scendiamo ma disegniamo i cerchi. Uno. E due. Sfiora il pavimento. Tre. Attenzione che il busto è immobile. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Cambiamo senso. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. E appoggiamo una gamba sull'altra. Sciogliere un attimo il gluteo e la coscia. E ci appoggiamo sull'avambraccio. Gomito al di sotto della spalla. Il busto è ben sostenuto. Mano sul fiacco. Da qua saliamo solo con il ginocchio e il piede. Quindi la gamba flexa, sale e scende. Attenzione a non perdere il busto. Lavoro bene il gluteo e l'esterno coscia. E andiamo. Uno. E due. E tre. Attenzione bene ai gluti che non devono cadere dietro. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Continuiamo. Quando sale la gamba sale anche il bacino in plank. E si scende. E uno. E due. Ancora tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Rimaniamo in isometria. Il ginocchio spinge indietro. Il bacino alto ancora per dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Si scende col ginocchio. Con il gluteo. E ci sdraghiamo a pancia in su. Allunghiamo un attimo il gluteo in schiena. Prima di cambiare il fianco. Quindi respiriamo profondamente qua. Inspiriamoci. Diamo una spinta. E cambiamo fianco. Tutto di là. Quindi mano alla nuca. Gamba sotto leggermente flessa. Sopra tesa. Saliamo in slancio. Vai. E uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Isometria. Uno. Forza la gamba. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ripetiamo. Uno. E due. Anche se bruciate nere. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Si molleggia verso l'alto. E due. E tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Cerchietti. Attenzione al busto. Alle spalle. Tutto immobile sopra. Lavora solo la gamba. Ne facciamo ancora. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Cambio attenso. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Gamba appoggiata. Appoggiamo l'alabbraccio a terra. Busto ben sostenuto. Ricordiamoci che non siamo al mare a prendere il sole. Ma lavoriamo bene di gambe. Quindi sale il ginocchio e il piede. I glutei non si muovono. Andiamo. Uno. E due. E tre. Il ginocchio spinge indietro. E cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E continuiamo ma saliamo in plank. Quindi alto il bacino. Alto il ginocchio. Uno. E due. E tre. Vai. Quattro. E spingere bene alto il bacino. Cinque. E sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Rimaniamo in isometria. E su. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Si scende. Ci sdraghiamo a pancia in su. Gambe al petto. E sciogliamo la schiena. E sciogliamo gambe e glutei. Una respirazione profonda. E adesso portiamo le braccia lungo i fianchi. Teniamo le cosce separate. I piedi chiusi. Ma i piedi a martello. Da qua facciamo frog. Quindi stendiamo le gambe in diagonale avanti. Unendo ginocchia e cosce. E ritornando piegate con i talloni vicini ai glutei. E andiamo. Uno. E due. Sentiamo che le cosce cercano di toccarsi in modo da attivare bene l'interna coscia. E quattro. E cinque. Le gambe sono basse finché la schiena ce lo permette. Quindi non dobbiamo sentire dolore a livello lombare. Se dà fastidio la zona lombare potete anche fare l'esercizio verticale. Ne facciamo ancora cinque. Quattro. Tre. Due. L'ultimo. Uno. E adesso stendiamo gambe verticali. Al centro. Allunghiamo i piedi. E lavoriamo ancora l'interno coscia. Facendo delle piccole sforbiciate. Quindi incrociamo le gambe. E cambiamo. L'incrocio deve partire dalla coscia. Non dai piedi. Ma il più ampio. Coscia. Coscia. E andiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Adesso le gambe si separano. 180 gradi. E tornano incrociati. 180 gradi. E cambio l'incrocio. Vai. Uno. E due. Tre. Quattro. Cerchiamo di tenerle il più allungate possibile. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. L'ultimo. Dieci. E gambe al petto. Si scioglie. E rilassiamo la schiena e le gambe. Appoggiamo i piedi e ci rigiriamo sul fianco. Ancora con la mano appoggiata alla nuca ma la gamba sotto è allungata e la gamba sopra è piegata ma con il piede appoggiato davanti alla coscia. Sta nella gamba sotto e ti diamo l'interno a coscia. E su. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Sempre col ginocchio puntato in avanti. Sei. Sette. Otto. Nove. E rimane alta dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E si riparte. Uno. E due. E spingere alto. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Molleggiamo in su. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Cerchietti. Uno. Sfiorare il pavimento. Due. Tre. Quattro. Gamba bene allungata. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Cambia il senso. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. L'ultimo. Uno. E appoggiamo. Una gamba sull'altra. E ritorniamo sull'avambraccio. Sempre gamba sottotesa e sopra piegata. Ancora il busto è ben sostenuto e la mano è sul fianco. Adesso la gamba si flette verso il pezzo. Col ginocchio raso terra. Si ristende la gamba e sale in alto. Andiamo. Uno. E due. Attenzione a non cedere indietro col bacino. Tre. Quattro. Cinque. E sei. Vai a spingere il sette. Otto. Nove. L'ultimo. Dieci rimane sulla gamba. Sbagliamo anche con il braccio. Andiamo a cercare di toccare con il piede e la mano. Uno. E due. Sempre più in alto. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Appoggio. Ci sbagliamo a palcia in su. Rilassiamo schiena. Gambe. E diluppo. Prendere fiato. Inspiriamo e ci diamo una spinta. E cambiamo fianco. Facciamo tutto dall'altra parte partendo con la posizione più comoda. Quindi mano alla nuca. Gamba sotto tela. Sopra piegata con il piede appoggiato avanti. Mano alla cavilla. Si sale. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Spingere bene in alto. Sei. E sette. Otto. Nove. Dieci isometri a per dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Si riparte. Bene alta la gamba. Ben ruotata avanti. E tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Adesso molleggiamo dieci. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E cerchi. Uno. e due. E tre. Sfiorare il pavimento. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Va agli ultimi. Dieci. Nove. Resistere. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. e uno. Appoggiamo una gamba sull'altra. Lava un braccio a terra. La schiena è ben sostenuta. La gamba sotto è tesa. Sopra piegata ma il piede dietro alla gamba. Adesso pieghiamo la gamba verso il petto. Si ritende e sale in alto. E andiamo. Uno. E su. E due. E su. Tre. E spingere. Quattro. Ancora cinque. E stendere completamente la gamba. Sei. E sette. Otto. Nove. L'ultimo. Dieci. Rimane sulla gamba. Saliamo con il braccio e andiamo a cercare di toccare con il piede la mano. E vai. Uno. Due. Tre. Spingere forte. Quattro. Cinque. Più in alto che si può. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. E appoggiamo la coscia. Appoggiamo entrambe le gambe. Ci sbreghiamo a palcio in su. E ci rilassiamo. Portiamo le gambe al testo. Respiriamo profondamente. Molto bene. Adesso ritorniamo con i piedi a martello. I piedi chiusi. Le ginocchia separate. Braccio lungo i fianchi. Ripetiamo dieci frog. Quindi si stendono in diagonale alta o in verticale se la schiena dà fastidio. E andiamo. Va. E due. E unire le cosce al massimo. Tre. E quattro. E cinque. Ancora sei. E stendere completamente le ginocchia. Sette. Otto. Nove. Vai. Dieci. Adesso estendiamo al soffitto. Allunghiamo i piedi. Stiamo in sforbicciata. Incrocio. E incrocio. Abbastanza dinamico. Andiamo. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E in apertura. Apro. E incrocio. Apro. E cambio l'incrocio. Vai. Due. E tre. Attenzione sempre alla zona lombare. Deve essere ben protetta. Quindi preservate piuttosto gambe leggermente più piegate e ben verticali. Ancora quattro. Tre. Due. Una. E piego gambe al petto. Mani sulle ginocchia e rilassiamo la schiena. Si respira profondamente. Possiamo togliere il cavilè e appoggiarli di fianco. Adesso appoggiamo entrambi i piedi a terra. Uniti. E lasciamo cadere le ginocchia in fuori e allunghiamo tutto l'interno coscia che abbiamo ben lavorato. Sentite proprio le cosce che spingono verso il pavimento. Se volete potete anche aiutarvi con le mani. Un paio di respirazioni profonde. E adesso chiudiamo le cosce. Una caviglia sul ginocchio. Prendiamo la coscia con le mani e tiriamo al petto per allungare bene il gluteo e l'esterno coscia. Spalle rilassate. Spingere forte con le braccia la coscia al petto. sempre un paio di respirazioni profonde in ogni posizione. E appoggiamo il piede e facciamo il cambio. Quindi caviglia sul ginocchio e tiriamo bene al petto l'altra gamba. Si respira profondamente. E adesso scrociamo le gambe. Due gambe al petto, mani sulle ginocchia. Ci diamo una spinta, ci solleviamo. E abbiamo terminato il nostro allenamento. Se questo allenamento ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un like, di lasciare un commento, di condividere questo video con chi vuoi e se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al mio canale. Noi ci vediamo sempre qui al prossimo allenamento. Ciao! Ciao!